La canzone che avrei voluto scrivere è Across the Universe di John Lennon. È semplice, straordinaria, è un sogno. Penso che raramente in una canzone, a prescindere dalla musica e dal testo, si crei un'atmosfera sospesa come quella. Il libro che sto leggendo davvero, lo sto proprio leggendo da mesi, è su Maria Antonietta di Francia. E lo sto leggendo perché normalmente leggo libri sui personaggi femminili della storia ed era da tanto che mi chiedevo veramente se questo personaggio fosse così antipatico. E sto scoprendo invece che non lo era affatto, che è stata, come tante donne, una vittima della storia. E il film immancabile, per me, è Lezioni di piano, dove ci sono tra l'altro le musiche di Michael Nyman. È una straordinaria protagonista insieme a uno straordinario protagonista. È tutto ambientato in Nuova Zelanda, mi piace tutto. e soprattutto questa luce bluastra che c'è.